L'ufficio territoriale della Campania ha una lunga esperienza nell'ambito della promozione della cultura statistica. Sono stati realizzati progetti con gli istituti scolastici, promosse iniziative con le università, organizzati eventi e manifestazioni culturali fuori e dentro l'ISTAT. Statistica a scuola, Gnam, Bimbinistat, la statistica a supporto della didattica, il censimento a scuola ai 150 anni dell'Unità d'Italia, a scuola di open coesione, Statistica e Cittadinanza, Best dei Giovani, Rete dei Referenti sul portale System, La Notte Europea dei Ricercatori, sono solo alcuni di essi. Il filo conduttore delle iniziative è stato avvicinario alle persone alla statistica, fornendo loro uno strumento per comprendere la realtà che le circonda. Sono stati predisposti pacchetti didattici che contengono percorsi formativi ispirati alla tecnica del Learning by Doing. I moduli di ogni pacchetto didattico presentano l'indagine statistica alle sue fasi, stimolano a sviluppare un approccio interpretativo dei fenomeni quotidiani, forniscono indicazioni per orientarsi nelle banche dati, ISTAT guidano a utilizzare strumenti utili a raccogliere, analizzare e presentare i dati statistici. I temi affrontati dai percorsi didattici sono stati la sicurezza stradale, l'alimentazione, il benessere fisico e sociale, l'identità tra presente, passato e futuro, la vita quotidiana e il rispetto dell'ambiente. I giovani hanno imparato a cimentarsi nel realizzare indagini e a presentarne i risultati. Hanno compreso la differenza tra il percepito e il reale, coadiuvati in questo da docenti, da tutori universitari ed esperti dell'ISTAT. Ecco come abbiamo contribuito alla promozione della cultura statistica in Campania. Un saluto a tutti e buona giornata della Statistica 2020.